Tutto parte da Valentino Molinario, cioè il padre di Giancarlo, l'attuale proprietario del gruppo. Trattava prodotti agricoli e oggi Giancarlo l'ha trasformato in un gruppo industriale avanzatissimo. 20 anni fa nasceva a Metallurgica Irpina, l'azienda guidata da Giancarlo Molinario che oggi è leader nel suo settore. Paletti, reti metalliche, fili e tanti altri prodotti destinati per lo più al settore agricolo hanno permesso al gruppo di espandersi e di consolidarsi sul territorio. Quest'anno abbiamo approfittato dell'Open Day che ogni anno facciamo per il settore agricoltura, invitando tutti gli operatori del settore, per festeggiare anche i 20 anni di attività di questa azienda. Per festeggiare l'anniversario l'azienda che ha sede ad Ariano Irpino ma che conta fabbriche anche a Sturno e Lucera ha aperto le porte per permettere a chi è interessato di toccare con mano ciò che viene prodotto tra questi stabilimenti. Senz'altro l'innovazione tecnologica dei nostri prodotti sta avanzando notevolmente. La griglia a maglia sciolta è una rete utilizzata nei campi sportivi, nell'edilizia e nell'agricoltura e la stiamo ampliando. Abbiamo aumentato la gamma dei pali per vigneti dove abbiamo un'industria sempre a Sturno che produce pali in acciaio per vigneti, frutteti e fido per l'agricoltura. Le ultime profili seguono le esigenze innovative del mercato mondiale. Ovviamente noi non pensiamo solo al mercato nazionale, pensiamo anche al mercato mondiale. Abbiamo aumentato la nostra presenza con degli operatori del settore in tutte le nazioni del mondo, soprattutto in questo ultimo periodo in Sud America e quindi abbiamo grandi proiezioni future. Presto si aggiungerà un'altra fabbrica, Flumeri, segno che Metallurgica Irpina punta sì al mercato internazionale ma con i piedi ben saldi in Valle Ufita. Giancarlo Molinario essendo nativo di Ariano Irpino è molto molto legato a questo territorio e sta investendo continuamente in questo territorio. La nuova fabbrica nasce a Flumeri, a pochi chilometri dalla nostra sede, dal nostro headquarter che ha di Ariano Irpino. Darà possibilità ad altre persone di avere un'occupazione dove noi stiamo in controtendenza rispetto al mercato che smantellano gli impianti in Italia e li vanno a portare nei paesi dell'est oppure addirittura chiudono e importano dalla Cina.